Nonostante tutte le linee ferroviarie siano operative, la situazione in Emilia-Romagna continua a essere molto grave. Voglio dirlo chiaramente e lo dico a Trenitalia e al Governo, questo sistema senza investimenti adeguati non funziona. Il disastro di questi giorni ne è la dimostrazione. Questo è il commento dell'assessore regionale alla mobilità e trasporti Alfredo Peri di fronte alla drastica riduzione dei convogli nei giorni scorsi a causa dell'ondata di maltempo e alla riduzione prevista per i prossimi per consentire interventi e controlli sulle linee ferroviarie e il materiale rotabile. Non sono accettabili i disagi che continuano a dover affrontare chi si sposta quotidianamente in treno, rincara la dose Peri. Così come non è accettabile che la scelta del mezzo di trasporto pubblico in situazioni complesse per avere più affidabilità e sicurezza si trasformi poi in un incubo. Incontreremo quanto prima il Comitato regionale utente ferroviario Emilia-Romagna per fare il punto. È evidente, prosegue l'assessore regionale, che Trenitalia non ha a disposizione materiale rotabile sufficiente. Invitiamo innanzitutto l'azienda ad effettuare la manutenzione dei mezzi che hanno subito danni a causa di neve e gelo nel più breve tempo possibile. Ma soprattutto occorrono investimenti rilevanti per rinnovare un parco mezzi che presenta grosse criticità. Come regione, conclude Peri, continueremo e continuiamo a fare la nostra parte, stanziando le risorse necessarie per la gestione dei servizi che ci competono e svolgendo costantemente attività di monitoraggio. Ma non basta. All'azienda e al Governo ricordiamo che questo sistema senza investimenti adeguati non funziona.